E' la prima volta che succede nella storia della nostra Repubblica. Il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha firmato in una volta sola 23 diversi decreti di nomina per giovani magistrati che saranno inviati in una sola regione, la Calabria. Per i corridoi del CSM, stando a quanto si vocifera, qualcuno ritiene che il merito sia del capo della Procura di Catanzaro, Nicola Gratteri. L'alto magistrato calabrese avrebbe infatti chiesto a gran voce al Governo un impegno ulteriore per i tribunali calabresi. E così ecco in arrivo 23 nuovi magistrati italiani freschi di nomina che sarebbero giovani di altissimo spessore professionale.